Ciao ragazzi e bentornati con il terzo episodio della saga su Night 4 Dead 2 nella mappa No Mercy di Aggiore Night 4 Dead 1 Sì, per chi non l'avesse saputo che prima stava cercando di aggiustare E comunque, beh, che dire, si può iniziare Gioi una gran pezzo di doni Non so, ma non mi interessa adesso Sì Sì Io sinceramente questi pomponi mi piacciono tutti C'è un'orda, c'è un'orda Li ha allontanato la pipe Dio che sono fermato Fede Ci sono delle... queste musica che mi fanno... ...gazzare Come? ... ... Non c'è un altro? No? Eh, non c'è l'ultimo. Non so, devo capire proprio. Vedi, l'ho detto pure Bill. I don't know which way. RELOADING! 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 Oh, no, no, no. Cosa? Oh, merci. RELOADING! Si, ma la maggior parte delle cose, se questo gioco bisogna attivare... RELOADING! Lo so. Motherfucker! RELOADING! C'è un boomer. Ehm, no. Tutta, quando in qua c'è l'M60? C'è un boomer. Ehm, no. Tutta, quando in qua c'è l'M60? c'è un m's60, under 4 dead December. Dovlemamento che divulgoto. Puht… Poco 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 Get on the left! Hurry! Chegno, l'each Chegno 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 Incoming! Chegno 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 I'm reloading! Wider in the hole! Heo I'm reloading! A K Beautiful Ma almeno ho uno, nessuno... nessuno, praticamente. Bene, posso... Faccio dire di essere... Non ho dei volti da... Ma che cazzo? Non ho avuto un indagare. Non ho avuto un indagare. Trovo. Tu non mi ho forte che non devo essere per me... Posso stare benissimo senza l'inizio. Pure a dare un indagare. Non ho avuto un indagare. Sì, finisce anche una glitch. Non ho avuto un indagare. Solo sono noi... Penso solo... Fai assicurare il senso. Non ho avuto un indagare! Non ho avuto un indagare! Mi sento scegliere il Прitore un indagare. Non cosa velo un indagare. Non sono assicurare non so serbile. Non sono ancora assicurare. Non sono assicurare, non sono assicurare. Ok, mettia... Ma Non è necessario, ma grazie. Non è necessario, non è necessario. Non è necessario, non è necessario, non è necessario. Non è necessario, non è necessario, non è necessario. Non è necessario, non è necessario. Non è necessario, non è necessario, non è necessario. Non è necessario, non è necessario, non è necessario. 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 Non è necessario, non è necessario, non è necessario. 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 Grazie a tutti! 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 Questa è la terza tappa e vi lascio con le ultime statistiche del gioco e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!